Vai! Va a dire! Buongiorno! Allora, buongiorno, buongiorno a tutti! Allora, oggi volevo ritornare, perché già in passato abbiamo affrontato questo argomento, volevo ritornare sull'argomento fake news, altresi detto nel nostro bellissimo italiano, le notizie false. Perché ci torniamo? Ci torniamo perché è un argomento che secondo me non deve mai finire nel dimenticatoio. Dobbiamo sempre e comunque ricordarci che siamo purtroppo circondati, purtroppo lo dico, da notizie false. Vuoi perché con l'avvento di internet si è amplificata la comunicazione, vuoi perché le persone non sempre sono brave persone, quindi fanno cose anche per rompere le scatole al prossimo, per un interesse personale, per un interesse politico, geopolitico, eccetera. Ma ovviamente non entro io nel merito. Cercherò di farvi un pochino capire e ricordare che cosa sono queste fake news, come possiamo soprattutto difenderci e perché sono nate, insomma. Allora, cominciamo col dire soprattutto che cosa sono. Tecnicamente sono degli articoli, vuoi in forma visiva, vuoi in forma di testo, redatti con informazioni inventate, ingannevoli oppure distorte, rese pubbliche con il deliberato intento di disinformare, creare scandalo attraverso i mezzi di informazione. Questa è una, come si dice, una traduzione, diciamo, di Wikipedia, che è la grande Bibbia, tra virgolette, no scherzo, enciclopedia, online, gratuita e aperta a tutti, ma che anche Wikipedia, purtroppo, nonostante la sua particolare caratteristica di... cerco sempre di usare termini in italiano, ma ogni tanto mi incastro... la sua caratteristica di provare le informazioni che vengono inserite, perché voi sapete che su Wikipedia anche io posso andare, fare la voce, che ne so, bottiglia, e scrivere la bottiglia è stata inventata nel, dal, al, ci sono dei meccanismi di controllo, ma ogni tanto qualcosa sfugge e quindi anche Wikipedia non è immune dall'avere al loro interno delle, diciamo, fake news, così per dire, ma a grandi linee si riesce, per fortuna, a tenerla abbastanza pulita. Ovviamente, sempre con il buon senso di leggere le cose e di informarsi. In questo caso, comunque, questo sono altro che non sono le notizie false che girano in rete. E vi accorgerete che non è spesso così facile scindere tra una notizia falsa, totalmente inventata o una notizia distorta, perché, insomma, vabbè, cercherò piano piano di portarvi verso una più cosciente informazione, che è quello che soprattutto può servirci per difenderci da questo bombardamento continuo che abbiamo di informazioni a tutti i livelli, a tutti i campi. Ma non abbiamo inventato nulla di nuovo. Io anche l'altra volta vi ho fatto a volo d'angelo un'introduzione un po' storica, perché non è che le notizie false sono state inventate con l'avvento di internet. Assolutamente no. Già nei secoli passati, tra l'altro a fine corso della nostra lezione, vi suggerirò un libro molto interessante che addirittura affonda le radici nell'antica Grecia. E quindi, questo per farvi un pochino capire, che le notizie false non sono niente di nuovo, solo che adesso c'è internet e purtroppo, ahimè, si è amplificato talmente tanto il numero di queste notizie che appunto diventa molto spesso difficile. Ad esempio, nel lontano 800 a.C. circa, praticamente viene il papato per giustificare il proprio potere temporale di fronte agli imperatori e all'imperatore redige questo, diciamo, editto, una sorta di documento dove Costantino scriveva che sì, il papato, che era l'allora imperatore, che sì, il papato effettivamente è un potere al di sopra dell'imperatore. Non so se a grandi linee, insomma, nel Medioevo tra papato e imperatori non è che c'era proprio questo grande rapporto idilliaco. Documento totalmente smentito già qualche secolo dopo, ma che comunque vi testimonia come anche allora, seppur in ambiti circoscritti, perché ovviamente qui parliamo di grandi poteri e poi, insomma, la base, il cittadino, comunque il contadino, non è che gli impoteva frega più di tanto, però qui già vi fa vedere come confezionare ad arte una bufala, poi vi spiegherò anche la differenza tra bufala e fake news, può portare a un interesse personale. Andando avanti, anche qui, a fine Ottocento, un presunto ufficiale, una persona vestita da ufficiale dell'esercito, andò in una cittadina dell'Inghilterra, non vi sto a mettere troppe specifiche, ve lo racconto proprio a grandi linee, dicendo guardate che Napoleone è morto. E ci fu una grande, stavamo intorno all'inizio dell'Ottocento, questa è la vignetta di fine Ottocento, questa notizia in sé è intorno al 1814. Guardate che Napoleone è morto. Questa notizia fece talmente clamore, scalpore, che arrivò addirittura alla City, a Londra, le borze impazzirono, ci fu un cataclisma, solamente per scoprire un po' di tempo dopo che invece non era vero niente. Quindi anche, continua, anche nell'Ottocento, ma comunque io penso che tra mille anni i nostri avi, no avi, i nostri futuri discendenti, scusate, gli avi stanno dietro, i nostri discendenti parleranno, vedete nel 2022, nel 2000 ci saranno con l'era dell'esplosione di internet, quindi è tutta una ruota. E quindi anche qui poi successivamente un'altra grande bufala inventata sono stati i famosi protocolli di Sion, anche questi usciti dalla Russia, proprio quella antisemita, creato tra l'altro dalla polizia segreta degli zar, quindi anche di una certa... cioè non è che l'ha creato il primo cretino che passava. Comunque null'altro che era un documento che poi in alcuni ambienti ancora a volte viene passato come vero, ma comunque è un documento che spiegava come la classe ebraica dovesse attraverso tutta una serie di manipolazioni, di sotterfuggi, di giochi di potere dominare il mondo. Fu smentita praticamente pochi anni dopo, palesemente smentita, ma nonostante tutto comunque purtroppo a volte ancora alcuni ambienti ancora pensano che sia comunque vero e addirittura si pensa che questa sia, si pensa, oddio, a grandi linee, la prima opera letteraria complottista, perché poi se entriamo nel territorio dei complotti lì proprio c'è un mondo veramente, come diceva qualcuno, che voi umani non potete immaginare perché è proprio un pozzo nero. Comunque vabbè, tecnicamente siamo in un mondo libero, ognuno è in grado di pensare qualsiasi cosa, ma ovviamente fino a prova contraria una legge che può essere una legge fisica o un qualcosa di matematico, di scientifico, fino a prova contraria è quello è. Ma comunque al di là di quello ultimo esempio che vi faccio, qualcuno forse di voi lo ricorda, la guerra dei mondi quando Orso Wells nel fine anni 30 fece una trasmissione radiofonica alla CBS dicendo chiaramente all'inizio e alla fine della trasmissione che era solamente un romanzo radiofonico tratto dal suo libro, quindi dicendolo chiaramente eppure tanti ci credettero che questi alieni stavano per sbarcare sulla Terra e anche lì ci fu praticamente una sorta di psicosi generale che poi venne, insomma, cercarono i media di chiarirla vabbè, poi non vi sto a raccontare tutto però come vedete uno dice sì, vabbè, ma ti pare che vai a credere eppure c'è chi credette all'epoca che che gli alieni stavano arrivando sulla Terra quindi bisogna sempre anche qui bisogna sempre stare attenti a quello che si sente allora che cos'è una bufala e che cos'è una fake news allora, le bufale altro che non sono c'è una sottile differenza però, insomma, ve la voglio comunque ricordare le bufale sono delle notizie false totalmente inventate come possono essere ecco l'editto di Constantino totalmente inventato la guerra dei mondi totalmente inventata le fake news invece è un pelo diverso perché sono o notizie false sono notizie che ci vengono veicolari in maniera distorta ad esempio i vaccini scientificamente funzionano però oppure si è fatto il vaccino e dopo otto giorni è successo questo cioè sono quelle notizie che vengono oppure c'è un titolo che poi vi faccio vedere alcuni esempi c'è un titolo e poi all'interno dell'articolo è una cosa totalmente diversa quindi diciamo che le fake news una base ce l'hanno ma la notizia viene totalmente distorta e più che veicolata male ecco in questo senso qui ho messo tanto testo ma più che altro per non per farvelo leggere perché io odio mettere troppo testo nelle slide perché sono sicura che nessuno lo legge e giustamente così però per farvi un pochino capire le differenze fra fake news e bufale così le leggo insieme a voi ad esempio un collegamento ingarnevole titoli e immagini o di dascalie differiscono dal contenuto ve le farò vedere dopo quindi se riuscite un pochino a seguirmi contenuto ingannatore il contenuto viene spacciato come proveniente da fonti realmente esistenti e quindi sono bufale totalmente inventate contenuto falso al 100% contenuto manipolato quindi sempre magari ecco tornando per esempio ultimamente è uscito tutta una diatriba sulla farina di grilli e uscirono tantissimi ma tantissimi articoli che dicevano guardate la barilla la buitoni già mette la farina di grilli dentro e voi non lo sapete tutte queste cretinate sono manipolate perché comunque poi magari alla fine andiamo a vedere che non è così anche ritorno sull'esempio dei vaccini sotto uscirono una cosa indegna di notizie allora voi vi ricordate che quando andavamo a fare i vaccini veniva compilato una sorta di liberatoria dove ci scrivevi se avevi allergie tre o quattro foglietti delle cretinate che a me per fare una risonanza mi hanno chiesto ancora di più però alla risonanza nessuno gliene frega niente ai vaccini invece sì uscirono una marea di documenti falsi guardate che cosa mi hanno fatto firmare dove magari ci scrivevano che in caso di morte la responsabilità era solamente del cittadino tutte queste scemenze e ne sono uscite una quantità industriale e qui quando i contenuti sono completamente falsi provenienti da fonti realmente esistenti perché comunque il modulo che noi andavamo a compilare effettivamente esisteva però veniva manipolato manipolazione della satira quindi quando non c'è intenzione di procurare un danno ma il contenuto satirico invece viene utilizzato per trarre un inganno quindi anche qui vedete i confini sono talmente labili che bisogna sempre stare attenti contenuto fuorviante quindi si fa un uso ingannevole dell'informazione per inquadrare un problema a una persona ma gli aggiungo anche per veicolare le opinioni è un po' un parolone ma sappiate che il grande dibattito etico anche dei social network vi ricordate che donald trump è stato per tanto tempo si dice bannato ma è stato praticamente sospeso ecco il termine giusto è sospeso da facebook e da twitter per diversi mesi proprio perché si sospettava che ci fosse una manipolazione e guardate che è così non è che ve lo dico io perché me lo invento ma ci sono tutte le studi scientifici di proprio manipolazione attraverso i social network noi non ce ne rendiamo conto ma purtroppo è così poi ripeto vi darò anche alla fine un libro che è veramente semplice ottimo intuitivo per capire un pochino la propaganda tanto è la parola precisa e poi abbiamo un contesto ingannevole ovvero quando il contenuto è reale ma è accompagnato da informazioni contestuali false quindi anche qui abbiamo un argomento che magari esiste tipo ecco ritorno sempre sui vaccini che sono anche quelli croce e delizia dove viene magari srotolata tutta le teorie particolari come la teoria dei feti morti che ci sono dentro i vaccini ma non è una teoria di non è che nei vaccini ci sono i feti morti è che addirittura da quanto ma ve lo dico a grandi linee perché ovviamente non sono un medico e ovviamente non sono un biologo non vi posso dare una spiegazione precisa ma le cellule in cui vengono fatte le colture in laboratorio altro non sono che delle cellule che sono state prelevate ma parliamo di inizio secolo di quando è cominciata proprio la ricerca scientifica prelevate scusate da effettivamente da alcuni feti che non sono riusciti a portare a fine gravidanza ma non è che ci sono i feti morti sono cellule di base in cui è come quando una persona muore e dona gli organi cioè voglio dire non è che ci stanno infilando nel corpo quindi ecco come vedete le cose vanno sempre lette correttamente e le cose vanno sempre lette io non smetterò mai di dire leggete leggete perché a volte noi facciamo le cose e nemmeno lo sappiamo ve lo dico soprattutto per esperienza personale io al lavoro da me scrivo le cose 50 volte le persone di quelle dieci righe che io scrivo leggono le prime due righe e poi mi richiedono le stesse cose mi richiedono le stesse cose alla fine come incontro cioè alla fine arsi il telefono e ti arrabbi perché comunque bisogna leggere lo so che è una rottura di scatole leggere bisogna leggere quello che firmiamo bisogna chiedere quello che firmiamo bisogna sempre stare attenti a quello che facciamo perché le truffe o le notizie false senza di noi non vanno da nessuna parte ricordatevi che la maggior parte di truffe in cui cadiamo io ci ho messo anche queste perché in un certo senso sono parallele o notizie false in cui crediamo ci caschiamo perché ci vogliamo cadere o vabbè vogliamo magari un parolone però perché non stiamo attenti e basterebbe veramente poco quindi perdiamo tempo perché la domanda principe è perché vengono creati questi contenuti sono tante le motivazioni tutti questi sette punti che io vi ho letto prima il perché sta tutto qua in mezzo diciamo tra virgolette abbiamo la propaganda semplice pura propaganda due avversari politici purtroppo una delle grandi tendenze è che uno scredita l'altro molto spesso questo come si fa si fa anche attraverso la propaganda sui social network in televisione è perché tu è perché io è perché lui è perché voi eccetera quindi propaganda anche per discreditare l'avversario ma soprattutto per rendere la mia verità più verità della tua e quindi avere consensi profitto purtroppo tante volte questi siti dove noi andiamo a vedere magari ecco tra che ne so tra 48 ore ci colpirà leggiamo un titolo su tutte queste questi box di pubblicità che stanno sui nostri cellulari o su internet tra 48 ore ci colpirà un asteroide clicca qui per vedere magari ci andiamo a cliccare magari non è niente una cretinata che dice che un asteroide passerà lì ci sono tutta una serie di pubblicità in quella pagina che noi andiamo ad aprire quelle pubblicità altro non fanno che pagare per il nostro clic che si chiama clicbite dopo ve lo farò vi farò vedere qualche esempio quindi anche questo voi non credete mai 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 ai titoloni che vi lasciano in sospeso questa persona ha mangiato questo frutto ed è dimagrita istantaneamente puntini puntini non vi fidate mai di queste cose sono tutte stupidaggini pubblicità phishing perché noi ci mettiamo dentro anche il phishing che altro che non è che adescamento di dati perché questo è il phishing in inglese è pescare e quindi i malintenzionati questa è un'altra cosa che poi magari ci faccio proprio una lezione perché è molto articolata il phishing è veicolato tramite mail tramite sms whatsapp telefonate insomma c'ha tante forme purtroppo comunque non credete mai tutto ciò che leggete che è in sospeso ad esempio che ne so metti metti questo ultimamente avevo letto aspetta che vabbè non me lo ricordo però ce ne stanno talmente tanti che sono veramente o anche personaggi famosi che ne so Totti è stato avvistato con questa persona puntini puntini lo so che la curiosità è tale perché è quello che a noi ci porta poi a cliccare o andare a vedere la curiosità ma sappiate che sono al 99% stupidaggini che non ci servono a nulla e fanno solo profitto di qualcun altro e fastidio nostro perché poi ci cominciano ad arrivare tutta una serie di pubblicità rotture di scatole eccetera quindi lasciate perderlo lo so che non voglio mettervi il terrore sappiatelo ci mancherebbe però state sempre molto attenti quindi propaganda profitto influenza politica interesse particolare come vi dicevo prima quindi anche interesse nel come si dice interesse nel appoggiare la mia causa e screditare la tua e quindi anche qui c'è l'influenza come vi dicevo purtroppo alcuni politici sono stati come si dice accusati di manipolazione delle masse come ad esempio io riporto perché quello è stato l'esempio più palese l'assalto a Capitol Hill che c'è stato negli Stati Uniti all'epoca di Trump lì cioè si è pensato le masse sono state sottilmente manipolate si pensa perché ovviamente provarlo poi non è facile ma sono state anche sottilmente manipolate per mandarle appunto a a fare questa questa sorta di assalto poi ovviamente la faziosità io io singolo cittadino posso anche essere contraria alla politica del mio del mio sindaco piuttosto che non lo so ma anche a livello personale a volte anche al mio vicino che rompe le scatole o magari ogni volta che vado al parco c'ho sempre devo guardare per terra perché c'ho sempre tracce di cani che vedo in giro qualsiasi cosa la faziosità appunto può portare anche a quello quindi cominciare ad inventare cose bufale ad aggredire a proprio veramente a costruire delle notizie false o delle bufale cattivo giornalismo cattivo giornalismo ne abbiamo proprio esempi palesi su tutto l'arco delle testate giornalistiche dico tutto perché veramente ci sono spesso e non vi ho portato l'esempio ma veramente spesso che delle notizie palesemente false sono state riportate da quotidiani di un certo livello Corriere della Sera La Repubblica ANSA TGPOM24 testate sia online che cartacee quindi tutti tant'è che negli ultimi anni alcune testate mettono sempre scritto grosso così il fact checking che altro non è che l'approfondire assicurarsi che quella notizia sia corretta proprio perché il cadere nelle trappole di queste notizie ha portato tante testate giornalistiche anche come dicevo di un certo livello a pubblicare notizie appunto false anche lì tu dici ma come io sto a leggere le legrazioni dell'ANSA o sto a leggere Corriere della Sera cioè non è e poi quelle sono comunque testate che in qualche modo influenzano le persone perché io sì leggo leggo un articolo ma leggo anche un'opinione mi faccio un'opinione in base a quello che leggo e quindi c'è tutta una catena che poi si si allunga e quindi anche lì ci sono le parodie come dicevo prima e quindi a volte queste come l'esempio di Orson Welles cioè le parodie che poi a volte vengono prese seriamente che invece poi alla fine tutta una scemenza ma vi farò vedere anche queste anche dopo provocare oppure prendere in giro anche le provocazioni molto spesso sono comunque fatte in una chiave di notizia falsa e quindi anche lì bisogna anche stare sempre attenti a quello che si legge e a chi ce lo propina dove si diffondono questa è una domanda un po' banale ma comunque ve l'ho voluta mettere perché l'abbiamo già diciamo vista in parte allora principalmente ci sono tutto il ventaglio dei media siano essi online siano essi cartacei libri tutto ciò che è comunicazione telefonate anche chi vi chiama ultimamente meraviglioso porelli io non non li ti chiamano quei call center infatti non rispondo mai a telefonate che non ho registrato in rubrica mai ogni tanto rispondo perché dico vabbè magari mi sbaglio non sbaglio mai e eppure questi tante volte partono con buongiorno la chiamo per farle una comunicazione da parte di Enel di qua e di là di su di giù appena gli dice sì ma voi siete Enel no noi siamo quindi già tu ti poni ingannevolmente facendomi credere che mi chiami dall'Enel e invece poi alla fine mi vuoi vendere qualcosa quindi anche lì se vi chiama qualcuno non rispondete mai o meglio se rispondete capite che è un call center lasciate stare io infatti ogni volta che mi capita quelle rare volte di rispondere no grazie non mi interessa gentile perché comunque dall'altra parte c'è sempre una persona che fa un lavoro che io personalmente non fare mai quindi tanto di rispetto e quindi ci sono tutte queste in primis io metto i social networks che personalmente reputo veramente un facebook in primis è veramente un contenitore di porcherie all'ennesima potenza quello che vi raccomando cioè non vi dico per carità di non utilizzarlo ci mancherebbe ma sappiate che la maggior parte delle cose veicolate su facebook sono false sono tendenziose sono distorte sono faziose quindi state sempre attenti ma non solo forse solo quello ci sono anche i vari whatsapp telegram quindi comunque come si dice articoli di chat si articoli programmi di chat applicazioni di chat noi abbiamo sui telefoni sempre sotto il periodo del covid girava un audio un audio di una pseudo infermiera che diceva cose assurde sempre sui vaccini e sul covid che non esisteva quest'audio rimbalzò da telefono in telefono ora io non voglio offendere nessuno ma se a voi vi arriva un audio vi arriva cioè vi arriva scusate tizio x che può essere mio fratello un amico in un gruppo viene condiviso un audio dove una persona dice il covid non esiste oppure domani cade un meteore una meteorite sulla terra moriamo tutti questo audio è stato per farvi capire a volte com'è l'assurdità delle persone quest'audio è stato condiviso non si sa quante migliaia di volte senza assolutamente una base scientifica senza nessuno che sapesse chi era questa persona che parlava eppure la gente ci ha creduto quindi soprattutto quando vi condividono cose amici io lo so ma mi ha detto mio cugino mi ha detto mia cugina mi ha detto questo mi ha detto quell'altro no proprio no cancellate e insultate pesantemente chi ve l'ha mandato no vabbè pesantemente no però fate un attimo ragionare chi ve l'ha mandato dicendogli sì ma chi è la fonte a me chi mi garantisce che questa persona sia effettivamente un'infermiera o non è pizzicarolo sotto casa quindi state sempre attenti a quello che ricevete a chi ve lo manda è relativo perché purtroppo in queste cose ci si casca soprattutto per distrazione per fiducia e vabbè ma me l'ha mandato mi fratello ma ti pare che nasce mensa eppure può capitare quindi state sempre attenti perché ripeto lo spettro di media che noi a cui noi abbiamo accesso oggi è spropositato cioè noi riceviamo notizie da tutti da tutto tutti i giorni di notte di giorno festivi sempre noi riceviamo informazione quindi ecco state sempre attenti perché comunque sia ripeto e non smetterò mai di ripeterli a volte la disinformazione arriva anche da fonti purtroppo di un certo livello per fortuna si sta un pochino cercando di dribblare queste notizie false anche come vi dicevo prima con il con questo fact check con questo controllo delle fonti che è la cosa essenziale ma poi vi darò anche un piccolo vade mecum alla fine quindi il controllo delle fonti che anche a livello giornalistico è insomma banale dirlo ma è comunque importante quindi abbiamo tutta la rosa dei social network poi abbiamo i contenuti amplificati come vi dicevo dei giornalisti che ovviamente le testate giornalistiche sono online ma sono anche cartacee quindi anche lì gruppi vagamente collegati tra di loro che tentano anche di influenzare l'opinione pubblica come non lo so un gruppo che adora il blu cercherà sempre di far sì che più persone adorino il blu e quindi di conseguenza come un pochino non so se se avete un po' sentito anche la storia di varie sette che ogni tanto nel mondo qua e là compaiono io ogni tanto mi vado a vedere dei documentari sul National Geographic su varie testate oppure leggo degli articoli insomma cerco di proprio per capire com'è possibile che delle persone vengano manipolate a livello psicologico in questa maniera è anche quello è un campo immenso in cui io ovviamente non entro perché non ho competenze scientifiche di quel livello però è comunque interessante ogni tanto magari a volo d'angelo vedersi qualcosa per cercare di capire anche perché ha voglia dire ma sì ma tanto a me non succederà mai no questa è una cosa che vi consiglio di non dire mai perché non è così purtroppo le nostre menti sono ancora molto misteriose e il meccanismo è veramente veramente complesso quindi mai dire a me non succederà mai perché può succedere comunque al di là di questo ci sono anche campagne sofisticate di disinformazione attraverso reti di bot e fabbriche di troll qui sono due parole un po' particolari che adesso vi spiego allora i bot altro non sono che risultanti dell'intelligenza artificiale sono voi vedeteli come dei computer dotati di un minimo di intelligenza artificiale che in automatico altro che non fanno di fare una cosa ripetutamente quindi fanno quella cosa che può essere un divulgare notizie false e quindi magari una volta al giorno mettono su facebook una notizia mettono su instagram una notizia falsa e quindi oppure a volte rispondono anche automaticamente a mandano messaggi rispondono automaticamente a messaggi sono altro che non sono come ad esempio se voi andate su siti tipo non so poste italiane questi grandi siti di servizi hanno il team pure telecom ce l'hanno il chatbot si chiama che sono quegli omini dove tu puoi parlare con un'intelligenza artificiale che a domanda teoricamente ti dovrebbe rispondere ma che non funziona quasi mai perché comunque in quel caso non è che siano proprio fattibili però ecco altro che non sono che intelligenze artificiali invece i troll è diverso i troll sono persone che prendono in giro il resto del mondo attraverso campagne di disinformazione disinformazione sì ho detto bene quindi i troll non so sinceramente non lo so perché vengono chiamati i troll che i troll altro che non sono che delle creature semi mostruose delle leggende del nord Europa comunque al di là di quello devo appurarla sta cosa del perché li chiamano i troll tant'è che a volte in gergo si dice ma che m'hai trollato cioè nel senso che m'hai preso in giro queste questi come si dice questi neologismi veramente bruttissimi che è un mix tra italiano inglese veramente osceni però purtroppo esistono e quindi ci sono fabbriche di troll ovvero di persone che magari diffondono notizie false e lo fanno anche standogli dietro cioè nel senso ti prendono in giro però lo fanno in maniera sottile che tu non te ne accorgi e ti fanno credere magari che che ne so che l'elefante vola piuttosto che l'acqua non è trasparente quindi ecco anche lì insomma sempre con minimo di dubbio per chi ci circonda allora informazione fact checking quello che vi dicevo anche prima allora il grazie al cielo ci sono numerose persone e organizzazioni che si dedicano a sfatare queste bufale come ad esempio il mitologico CICAP che è il centro di psicologico non mi ricordo l'acronimo fondato appunto dal doveunque sia Piero Angela che appunto il suo scopo è proprio sfatare le bufale le false notizie iniziato un pochino con lo sfatare tutte quelle cose relative a spiriti medium vabbè ve lo dico in maniera molto semplice e basic quindi tutto il mondo dei medium di queste cose insomma diciamo che il CICAP fa sì che venga tutto spiegato dalla scienza come personale opinione è giusto sia sono pochissime le cose che la scienza non si spiega per quelle per carità alzo le mani tutto il resto c'è sempre una spiegazione scientifica e c'è sempre una ragione sempre comunque per fortuna ci sono queste organizzazioni ve ne cito alcune c'è open.online che è una testata giornalistica molto interessante fondata da Mentana Enrico Mentana il giornalista dove praticamente vengono inserite tutte le informazioni che hanno una base controllata quindi sono informazioni voi lì non troverete mai cretinate diciamo così c'è anche butac.it che altro non è che bufale un tanto al chilo una cosa credo sia iniziata un po' frufru e poi è diventata seria ma anche qui sia butac.it che è bufale.net sono due siti dove spesso tutte queste notizie come ad esempio la farina dei grilli che sta da per tutto che tra un po' ce la beviamo pure nel latte la mattina girava e loro ti fanno vedere che no non è così dopo ci andiamo a fare un giretto e quindi vi fanno vedere che le notizie non sono quello che sembrano e poi ci sono appunto tutti i vari siti di informazione che cercano appunto di sfatare queste bufale vi faccio vedere un po' di esempi presi da facebook soprattutto ultimo ora allarme per la terra tra meno di 48 ore l'asteroide colpirà puntini puntini la notizia è trapelata poco fa nessuno ne parla ma ecco la verità queste proprio sono le cose questa è proprio una palese una palese scemenza non ci credete io lo so che la la tentazione di fare clic è forte ma queste sono stupidaggini tempo fa uscì anche questa lutto in casa ferrari è morto questa notte con la foto di schumacher questo poveraccio che veramente sappiamo come sta è morto questa notte uno vede la foto di schumacher ci clicca sopra perché dice cacchio è morto schumacher no invece poi magari è quello che gli sta dalla mano dall'altra parte in questo caso sono fake news quindi io ho magari una notizia effettivamente vera quindi magari questo ragazzo che sta dando la mano a destra a schumacher magari purello è morto però me la fanno veicolare come diversa quindi io clicco subito questa rete news 24 che è una di quelle che veicola bufale più di tutti su facebook o più che sì fake news notizie manipolate loro avranno tutta una serie di persone che mettono le pubblicità su questo sito e che quando noi diamo il click andiamo a dare un contributo a queste pubblicità quindi lasciate stare questi articoli sono proprio quelli più assurdi tempo fa uscì forse l'altro anno no anche di più uscì questa bufola di allarmismo infatti questo è un screenshot che ho preso su bufale punto net dove uscì che sulla pontina c'è stata una coda sotto pasqua incredibile queste sono a parte che era notizia totalmente falsa ma soprattutto puro e semplice allarmismo con una immagine totalmente inventata e quindi anche qui noi ci andiamo a dire sì ma voglio dire perché io sempre li vedo perché perché la gente vuole rompere le scatole perché si vuole creare allarmismo perché si vuole non spesso non si sa sono click byte queste sono tutte derivazioni delle fake news quindi le poi le evoluzioni che noi abbiamo delle notizie false sono veramente tante continuiamo anche qui quando io un'altra cosa che non riesco io non riesco a capire ogni tanto esce fuori messaggi di facebook dove c'è scritto guarda facebook ma anche per mail qui ho preso l'esempio la tua pagina è stata segnalata per prevenire problematiche del genere clicca qui tu vai a cliccare lì e magari c'è un sito di offerte di padelle a poco euro quindi state sempre attenti a quello che leggete il coronavirus anche qui contiene sequenze in comune con l'HIV è stato creato dall'uomo pure qui ci sono tutto il ventaglio di bufale sul complottismo e quindi anche qui state sempre attenti a quello che leggete e chi lo pubblica soprattutto chi lo pubblica anche questo io anche queste cose questo e forse dopo ce n'è un altro esatto questo forse è ancora più pregnante tutti tutte quelle persone che pubblicano sul proprio stato non autorizzo facebook a fare questo non autorizzo facebook cioè sappiate che sono tutte scemenze cioè veramente io perdo un po' di stima nelle persone che pubblicano queste cose perché veramente domani inizia la nuova regola di facebook e permette di utilizzare le tue sappiate che tutto ciò che noi mettiamo sui social network tutti nel momento in cui lo facciamo condividi non è più di nostra proprietà diventa di proprietà del social network avete mai letto quando vi siete iscritti a un social network avete mai letto tutto il papino no esatto bravi non l'ha letto nessuno io ci ho perso un po' di tempo perché per curiosità a voi per dirlo anche a voi però sappiate che tutto ciò che noi mettiamo sui social network non è più di nostra proprietà in nessun caso e non c'è modo di cancellarlo o meglio vi fanno credere che lo cancellano ma rimane lì è disattivo cioè non lo puoi vedere ma comunque rimane decente sui server di del social network X non do il permesso non l'autorizzo sono tutte stupidaggini veramente non fatelo nemmeno perché vabbè però nel dubbio lo faccio no nemmeno nel dubbio non lo fate perché non c'ha veramente nessun senso e addirittura il ministero della salute all'epoca dovette aprire questa è una cosa veramente boh mi avviso molto triste ma dovette aprire una sezione che probabilmente ancora c'è sulle fake news questo è uno screenshot del sito del ministero della salute dove c'è una sezione proprio dedicata alle fake news quindi a tutto ciò che girava falso sul in questo caso sui vaccini e sul covid quindi vabbè punto allora come vi do un pochino qualche dritta su come difendersi un pochino perché ovviamente ripeto noi siamo strabombardati da da informazioni ma noi leggiamo una cosa noi leggiamo abc allora la prima cosa che ci dobbiamo chiedere dobbiamo considerare la fonte quindi chi ce la manda e da dove proviene il famoso audio dell'infermiera che diceva che il covid non esisteva cioè quello non c'è nessuna fonte o meglio la fonte può essere mio cugino mio fratello il mio più stimato amico ma alla fine ho la sua parola contro la mia quindi considerate sempre la fonte indaga sul sito da cui viene i suoi scopi e tutto ciò che riguarda quindi anche quelle che vi ho fatto vedere prima considerate chi sono Rai no com'era quell'altro aspettate si chiamava Rete News 24 noi andiamo a vedere questo Rete News 24 sono anche questi nomi che molto spesso richiamano giornali o giornalisti di altro livello quindi anche lì quando vedete una fonte dite ma boh sta cosa è anche un po' istintivo non vi fidate subito a priori approfondite i titoli possono venire possono essere esagerati per attrarre i click come vi dicevo prima quindi qual è la storia vera? a volte anche semplicemente scrivere su Google Schumacher è morto? punto interrogativo oppure notizia sulla morte di Schumacher vedrete che nella maggior parte dei casi vi uscirà che è una notizia falsa quindi anche solamente scrivere su Google semplicemente il testo di quella notizia vi farà uscire e capirete che effettivamente non è una cosa vera verifica l'autore quindi verificate chi scrive queste cose una piccola ricerca sull'autore se è plausibile se è reale se è consigliato ci sono anche opinioni magari non so quel rete news 24 di prima io vado su Google e scrivo rete news 24 opinioni e vedo cosa mi esce state sicuri che vi uscirà qualcuno che dice più di qualcuno poi ovviamente dovete anche lì pesare se su 10 opinioni 9 sono negative beh mi sa che non è aria fonti a supporto io vabbè vado sul sito X trovo una informazione spiegata scusi scusate raccontata non è che perché lo scrive il sito X è vero punto vado a vedere se effettivamente anche su altre piattaforme esiste quindi se magari una notizia in 10 testate la danno effettivamente vera o comunque la spiegano in quei termini allora quelli sono fonti che supportano quello che io sto leggendo verificate la data l'altro giorno un amico mi fa oh ma lo sai che è morto questo un attore io ho fatto ma è morto questo attore e ho detto scusa ma è morto più di un anno fa e ho detto come fai dice ma no l'ho letta su Bing che è il motore di ricerca di Microsoft quindi voglio dire non sto parlando di vattela pesca che diceva sette ore fa è morto l'attore X ma effettivamente era morto un anno e mezzo fa sì più di un anno fa e quindi pure lì vedete che a volte testate apparentemente sicure insomma uno da da Microsoft non è che t'aspetti scemenze però cioè scemenze oddio non era una scemenza in quel caso era un qualcosa che ti porta a fare click ma poi alla fine è una notizia di più di un anno fa e quindi verificate la data è uno scherzo se è troppo stravagante potrebbe trattarsi di satira fai una ricerca sul sito e sull'autore quindi voglio dire i troll che dicevamo prima sono questi se qualcuno che ne so quello del meteorite tra 48 ore poi quando c'è scritto non ce lo dicono lì proprio è l'apoteosi della falsità comunque vabbè anche lì insomma un beneficio del dubbio datelo però sempre con un po' di verifica i tuoi preconcetti valuta se le tue convinzioni influenzano il tuo giudizio quindi l'obiettività che è difficile però non è impossibile sia che si tratti di non so un avvorsario politico diverso da quello con cui si va d'accordo piuttosto che un non so un cibo che non ci piace ecco per esempio come dicevo prima adesso c'è tutta la la discussione sul mangiare gli insetti per salvare il pianeta sembra che mangiando gli insetti noi salveremo il pianeta però vabbè al di là di questo si è talmente amplificata questa cosa che ci sono popolazioni che mangiano insetti da millenni non mi sembra che sono né morte né storpie né cretine insomma voglio dire gli insetti si mangiano da una vita in varie parti del mondo noi abbiamo il pregiudizio di dire la marina di insetti che schifo è un pregiudizio quello perché finché non si io personalmente sono curiosa di assaggiare la marina di grillo o non mi faccio troppo certo il verme che si vede ogni tanto i vermi fritti che si vede ogni tanto sulle bancarelle dei paesi magari dell'India dei paesi diversi da noi che mangiano ripeto cioè quelli magari c'avrei un po' di ansia dovrei prendere il coraggio a quanto mangi però già la farina insomma è un po' più quindi questi sono i pregiudizi che comunque le nostre gabbie mentali con cui nasciamo cresciamo eccetera quindi anche lì è un po' complicato chiedi agli esperti gli esperti questo famoso essere mitologico l'esperto no vabbè però sono comunque persone che sanno più di noi cioè se io ho una malattia non è che vado dal mio parrucchiere gli dico scusa ma secondo te sto dolore vado dal medico perché so che ha una giustamente la competenza più della mia quindi chiedete a persone che ne sanno più di voi e che sicuramente magari fanno quel lavoro come ecco io ho fatto l'esempio del medico ma potrebbe essere anche far crescere una pianta in maniera migliore io non è che vado dal vado pure dal vicino che magari empiricamente mi sa dare però magari vado dal vivaista gli dico guarda come posso fare quindi ecco insomma sappiate che queste a grandi linee sono dei consigli per riconoscere le notizie false le fonti utilizzate ve l'ho messo perché ovviamente ah ecco il CICAP Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze le pseudoscienze sono quelle scienze che tecnicamente non hanno una base scientifica ma che sarebbe meglio averla detto in maniera molto semplice poi in ultimo vi volevo far vedere questa è la presentazione vi volevo far vedere un libro se volete è un libro interessante di cui io ho iniziato la lettura e ho sentito un'intervista alla scrittrice che è una filosofa che fa ricerca divisa italiana fra la Francia e gli Stati Uniti e si Gloria Origi caccia alla verità praticamente è una spiegazione per a livello psicologico e filosofico che tratta della persuasione e della propaganda ai tempi del virus e della guerra quindi vi dà un pochino una chiave di lettura su come capire la verità è un termine ovviamente troppo grande cioè nel senso tutti noi pensiamo di avere la verità in tasca ma probabilmente non ce l'ha nessuno meglio dipende sempre da tante cose quindi ecco è un libro che vi consiglio interessante si legge molto bene e parla proprio a livello di filosofia ma oddio noi quando vediamo pensiamo alla filosofia pensiamo al non so a una persona che sta lì e pensa ma non è così semplice la filosofia ultimamente sta entrando in tanti campi proprio per insieme alla psicologia per cercare di capire proprio l'etica in questo caso l'etica del fare informazione del andare appunto a caccia della verità e quindi capire le informazioni non farsi travolgere basta da questo fiume di informazioni che la maggior parte è veramente carta straccia quindi se magari vi può tornare utile questo è un un libro che vi vi consiglio e niente io per oggi ho finito interrompo la condivisione e se avete domande dubbi incertezze nel frattempo controllo il fuoco riattivatevi l'audio perché non sento nessuno non mi fate stare da sola ok no non sento più nessuno ciao cara sono arrivata un po' in ritardo alba bella buongiorno ti ho visto tranquilla ciao a tutti ciao te la rivedi registrata poi è certo sì no no ma era poco il ritardo diciamo che poi l'ho visto infatti sei stata brava dai dai sei stata brava con tutto che avevo come ma mi stavano bruciando le creppe ah no questo non va bene quindi dovevo intervenire ecco è Renata che è Renata che prova a collegarsi Renata infatti mi meravigliavo che non ci fosse Renata però c'ha la cosa cancellata va beh ragazzi è sempre bello vedervi come va il bimbi bene io 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 aspettiamo intanto aiuto la registrazione perché sì sì non ci sono domande va bene ciao ciao